Qui alla UAC formiamo un personale sempre in costante crescita e ogni anno miettiamo soltanto il meglio del meglio. Vuoi essere promosso? Vuoi affrontare nuove sfide? Vuoi diventare più di quanto hai mai sognato? Se hai i requisiti per l'avventura d'anime di quest'anno parla col tuo supervisore. UAC, il mondo conta su di noi. Tu cosa senti? Qui alla UAC formiamo un personale sempre in costante crescita e ogni anno miettiamo soltanto in costante crescita. Vuoi essere promosso? Vuoi affrontare nuove sfide? Vuoi diventare più di quanto hai mai sognato? Se hai i requisiti per l'avventura d'anime di quest'anno parla col tuo supervisore. UAC, il mondo conta su di noi. Tu cosa senti? UAC, il mondo conta su di noi.